Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini. Partiamo con la variante di Valico tra Firenzuola e Badia, segnalati rallentamenti per un veicolo in avaria in direzione di Bologna. E sempre in A1 a Firenze Nord in entrambe le direzioni, anche qui personale su strada. Passiamo alla 11, tra Pistoia e Montecatini, terme rallentamenti in direzione di Pisa. Lavori sulla Firenze, Pisa-Livorno, in entrata da Livorno siamo a Ginestra-Fiorentina. Per i treni il 18621 Viareggio-Lucca e il 34036 Lucca-Viareggio sono stati cancellati, attivati i bus Spola tra Viareggio e Lucca che effettuano le fermate intermedie di Nozzano e Massarosa. E per il momento ci fermiamo qui, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi! Grazie a tutti!